Isola dei famosi, la Marcuzzi furiosa con John, quelli come te non li tollero Alessia Marcuzzi inferocita con John Vitale per le accuse a Barbara Durso, per me dovresti essere già fuori dal programma. Ieri, giovedì 31 gennaio, è andata in onda una nuova e sfavillante puntata dellIsola dei famosi. Uno tra gli argomenti maggiormente discussi è stato quello riguardante il caso John Vitale. Laspirante Isola no, infatti, si è trovato a dover fronteggiare una situazione alquanto spiacevole a causa di alcuni comportamenti adoperati al di fuori. . La conduttrice Alessia Marcuzzi, infatti, lo ha pesantemente richiamato in merito ad alcune sue dichiarazioni fatte mesi prima di entrare a far parte del reality show. Il ragazzo aveva detto delle cose bruttissime nei confronti della conduttrice Barbara Durso. Per questo motivo, si è trovato a rispondere delle sue affermazioni davanti a tutta Italia. La Marcuzzi è stata molto dura con John e gli ha detto, quelli come te non li tollero, per me dovresti già essere fuori. . John Vitale e le pesantissime offese contro Barbara Durso, la Marcuzzi è furiosa. La puntata di ieri dellIsola dei famosi è stata ricca di colpi di scena. . Laspirante Isola No John Vitale ha dovuto fare i conti con una pesantissima segnalazione sul suo conto. . In questi giorni, infatti, si vociferava di una possibile squalifica per un concorrente a causa di offese nei confronti di una conduttrice Mediaset. . Dopo svariate ipotesi e supposizioni, quella più accreditata ha avuto lo meglio. Il naufrago a rischio era proprio John Vitale. . La conduttrice Alessia Marcuzzi, pertanto, ha deciso di affrontare largomento in modo molto diretto. . Ha richiamato allattenzione John e gli ha mostrato tutti i filmati inerenti al caso. . La coduttrice non ha avuto pietà e gli ha detto che il suo atteggiamento è stato assolutamente sbagliato, un imbecille. . Le sue offese rientrano nel delicato ramo del chiberbullismo, un tema molto caldo e molto attuale nellultimo periodo. . Alessia Marcuzzi arrabbiata con John, dovresti essere fuori. . La Marcuzzi ha detto, quelli come te non li tollero, per me dovresti già essere fuori dal programma. . Le sue parole sono state, naturalmente appoggiate dal pubblico. . Il ragazzo, dal canto suo, ha provato a difendersi chiedendo scusa pubblicamente a Barbara Durso e a tutta lItalia. . . John ha affermato di essere stato uno stupido a comportarsi in quel modo. . In ogni caso, lira della presentatrice non si è placata. . . Con tono sempre accusatorio lo ha informato che sarebbe stato il pubblico a decidere le sue sorti. . . Il ragazzo, infatti, è finito al televoto contro Alice, Giorgia e Yuri. . 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